Se vado a guardare la statistica del conversion rate su tutto il traffico ho un numero molto basso. C'è chi poi mi dice io sì però lo calcolo dalle mie campagne quindi ho un ritorno del 10%. Sono modi diversi per vedere il conversion rate ma la vera domanda è chi è soddisfatto oggi come oggi del proprio conversion rate. Normalmente non trovo tra i miei clienti o tra le aziende con cui parlo qualcuno che mi dice io sono soddisfattissimo del conversion rate che ho si può sempre fare di meglio.